Buongiorno a tutti e benvenuti alla visita guidata di un bilocale arredato nella zona di Desio in via Pervinzago. Partiamo subito con l'esposizione di questo appartamento mostrandovi l'ingresso che dà accesso direttamente alla zona della cucina con il soggiorno. Zona pranzo uscita con portafinestra verso il giardino che vedremo tra poco disimpegno bagno con doccia e camera da letto, ampia armadiatura, letto matrimoniale con contenitore, la camera ha anch'essa l'accesso alla parte esterna del giardino. Ci dirigiamo quindi all'ingresso per visionare il giardino che è un giardino semiperimetrale giardino di ingresso che si apre poi nella parte più esterna. Per ricevere maggiori informazioni su questo appartamento potete visitare il sito www.desio.soloaffitti.it o telefonare al numero 0362 30 20 17 e parlare con un nostro incaricato per fissare anche un appuntamento di visita. Vi ringrazio e buona giornata.